Ben ritrovati e benvenuti tutti quanti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un eccellente programma di gestione delle stampe, si chiama Bumaga. Allora partiamo con una premessa particolare, come potete vedere qui sullo sfondo del video che state guardando, è aperta nel mio browser una pagina che presenta un prodotto commerciale ovvero FinePrint. Ecco, chi lavora in ufficio ma anche privatamente con un sistema operativo Windows molto probabilmente o meglio c'è una buona probabilità che abbia installato questo programma o comunque ne abbia già sentito parlare. FinePrint che non è nient'altro che una stampante virtuale ovvero non fisica, non un oggetto ma un software, un programma che simula il comportamento di una stampante a tutti gli effetti e che si presenta al sistema operativo come una stampante che permette appunto di gestire le stampe prima di inviarle ad una stampante vera e propria, fisica per ottenere su carta il risultato della stampa. Quindi FinePrint è una stampante, uno strumento che si frappone fra la nostra creazione virtuale del documento sul PC, la si verifica, la si modifica come necessario su FinePrint e alla fine, solo alla fine, si stampa il necessario effettivamente su carta e il vantaggio di avere una stampante virtuale di questo tipo è soprattutto quello di poter riverificare un'ultima volta le stampe nel formato effettivo di come usciranno su carta e quindi di poter anche risparmiare carta perché se si è sbagliato qualcosa e non c'è FinePrint in mezzo, le stampe vanno diritte diritte, la stampante fisica, foglie di carta vengono usate e poi magari c'è da gettare tutto nel cestino. Ecco, FinePrint è un ottimo prodotto che permette appunto di risparmiare anche carte, anche ecologico se vogliamo metterla così. Ecco, questo canale parla di Ubuntu e in generale di sistemi operativi liberi, aperti, basati su Linux e quindi ho detto che inizio questo video con un'introduzione un po' particolare perché appunto sto parlando in questo momento di un prodotto chiuso, software chiuso, proprietario, commerciale. Ecco, però appunto su questo canale non è che trova molto spazio questo tipo di software se non quando effettivamente una soluzione è buona, il prodotto è buono e va pur riconosciuto e non è che perché un software è chiuso, proprietario, necessariamente cattivo. Non siamo così, come dire, talebani da rifiutare per principio un software solo per quello. Quando è buono si può anche dirlo, ma naturalmente non sto facendo pubblicità gratuita a FinePrint senza un motivo, bensì lo sto facendo perché nel nostro mondo Linux un prodotto come FinePrint o che tende ad essere simile nelle funzionalità FinePrint è qualcosa che a mia conoscenza è sempre mancato. Ecco, nel nostro mondo non abbiamo mai avuto una stampante virtuale che faccia perlomeno in parte quanto fa attualmente FinePrint nel mondo Windows. Ci sono, è vero, diversi strumenti grafici e da terminale che permettono in un modo o nell'altro di gestire in un modo più o meno complesso, più o meno confortevole il flusso delle stampe, ma mai un qualcosa di così pratico e immediato e intuitivo come FinePrint. Ecco che posso con gioia annunciarvi in questo video che anche questa lacuna è stata finalmente colmata e col passare delle versioni del prodotto che vi presento in questo video, la lacuna si farà sempre più fine, sempre più stretta fino, penso io e spero anche a colmarla totalmente. E il prodotto appunto si chiama Bumaga. Ecco, questo Bumaga è la versione, come dire, per il mondo Linux che imita o ha le stesse finalità di FinePrint nel mondo Windows. Ecco, quindi in realtà sono partito da FinePrint perché volevo far capire l'ambito del quale sto parlando e FinePrint è un prodotto molto diffuso e noto, quindi ho la speranza che chi guarda questo video ne abbia almeno già sentito parlare e sappia immediatamente posizionarsi nell'ambito del quale sto parlando. E quindi ho preferito partire appunto da FinePrint per arrivare però immediatamente adesso a parlare di Bumaga che è il nostro tra virgolette FinePrint. Quindi Bumaga è un progetto giovane in crescita rapida e che in poco tempo, in poche versioni, ha raggiunto già un notevole livello di funzionalità. Non ha tutto ciò che FinePrint ha perché FinePrint è anni che esiste, veramente tanti anni, è un prodotto maturo. Bumaga non lo è ancora però a questo punto, arrivato allo stadio della versione attuale, ho ritenuto già opportuno far pubblicità a questo ottimo progetto, molto pratico, che promette bene, sta crescendo bene e quindi è arrivato anche a un livello di funzionalità per le quali valga la pena fare un video di presentazione. E quindi eccomi a parlarvi dei dettagli di questo Bumaga. Dunque, il nome, prima di tutto, che può suonare un po' buffo, ecco diciamolo, Bumaga, cosa c'entra con le stampe. In realtà Bumaga è un acronimo derivato dalle parole Booklet Manager, eh? Bumaga, Booklet Manager, ovvero, tradotto più o meno in italiano, il gestore di libretti opuscoli. Quindi Booklet in inglese sono gli opuscoli, i libretti, quindi quelle stampe che poi potete fare anche voi con le vostre stampanti, ripiegate i fogli a quattro e ottenete un opuscolino, un librettino da poter sfogliare. Ecco, questo è l'origine del nome Bumaga. Il progetto si chiama, appunto, Bumaga. Cos'è Bumaga? Anch'esso come FinePrint, ed ecco che, visto che parliamo di Bumaga, ho già fatto vedere a sufficienza l'home page di FinePrint, passiamo all'home page del progetto Bumaga. Eccola qua, Open Source Virtual Printer, e appunto Bumaga, anch'esso come FinePrint, è una stampante virtuale, ovvero è un software che si presenta al nostro sistema operativo, nel mio caso Ubuntu, come una stampante. Quindi Ubuntu lo vede, vede questo Bumaga come fosse una stampante fisica, ma non lo è. È in pratica un software che finge di essere una stampante, che viene considerato tale dal sistema operativo, appunto ciò che ho appena detto. In effetti Bumaga, una volta che l'avete installato, viene elencato fra le stampanti come una qualsiasi stampante reale. Lo vediamo nel gestore delle stampanti, che l'ho già aperto qua. Se volete aprire il gestore delle stampanti, andate nelle impostazioni di sistema e cliccate sull'icona stampanti, otterrete questa finestra. Adesso lasciamo perdere, per il momento, tutte le altre stampanti che risultano qui sul mio sistema e vediamo che quella che ho messo come predefinita, vedete il vistino qui verde vuol dire che predefinita, si chiama Bumaga. Vedete che, appunto, Bumaga è una stampante virtuale, ma si presenta assieme ad altre stampanti che virtuali non sono, come questa che è la mia attuale stampante fisica, reale, vera, la Brother. Però Bumaga non c'è nessuna differenza, per il nostro sistema Linux la vede come una stampante. Voilà. I siti del progetto, naturalmente qui vi lascio come sempre, o quasi sempre, dove necessario, nei miei video, vi lascio dei riferimenti, è uno dei quali questo, Bumaga.org, è quello che è aperto qua, vedete qui, la pagina principale dalla quale potete raggiungere dove scaricare, gli screenshot, il wiki per la documentazione, potete raggiungere un po' tutte le informazioni su questo progetto e vedere un po' come funziona, la descrizione, eccetera, eccetera. Ecco, in sostanza questo è ciò che è Bumaga. Adesso, non so se si è capito, ma io sono un po' un fan, sono entusiasta di questo programma, di questo progetto, perché è fatto bene ed è molto, lo trovo molto utile. E quindi, siccome sono un sostenitore di questo progetto, ci credo e spero che abbia vita lunga e che maturi ancora, mi sono anche impegnato personalmente e ne ho fatta la traduzione in italiano in questo progetto. Quindi, se installate Bumaga, vi troverete lo strumento, appunto, questa stampante virtuale che vi parla nella vostra lingua, perché mi sono impegnato a tradurlo. Tradurlo come, se volete contribuire anche voi in futuro a completare, a migliorare, a correggere la traduzione italiana o di altre lingue, per carità, dipende da chi sta guardando, quante lingue conoscete voi che state guardando questo video. Bumaga si appoggia al sito Transifex per fare le traduzioni software, non solo di Bumaga, naturalmente Transifex ha molti progetti sul suo sito pronti per la traduzione, fra i quali anche Bumaga. Ecco, questo link ve lo lascio e l'ho già aperto qui. Bisogna iscriversi, io sono iscritto a Bumaga, insomma, ho creato un account gratuito perché come semplice traduttore non dovete pagare nulla, insomma, è libero, chiunque può iscriversi per contribuire alle traduzioni. Non era ancora presente la lingua italiana quando io mi sono iscritto, ho richiesto la lingua italiana. Il capo progetto di Bumaga ha appunto accettato la mia richiesta, ha aperto per così dire la voce Italian, la vedete qui, fra tutte le lingue esistenti attualmente la voce Italian l'ha aperta, ho avuto a disposizione i file originali in inglese della lingua sorgente in inglese come sempre in tutti i software e l'ho tradotto, vedete, 100% tradotto. Allo stato attuale c'è ovviamente la lingua inglese, la lingua cieca, il francese, il tedesco, l'italiano, il russo, ovviamente il russo è immediatamente tradotto perché il progetto è gestito da un russo, Sokolov, e Uzbeko, addirittura è iniziato anche la traduzione polacca, vedete, ci sono altre lingue, chiunque può appunto, chi è di lingua madre o che conosce bene un'altra lingua può contribuire ad aprire altre lingue, ecco vedete qui c'è il pulsante richiedi lingua, si richiede la lingua se manca, se no si può contribuire a una lingua che esiste già. Non è difficile usare Transifex, c'è l'aiuto, si guarda, io ci ho messo veramente pochissimo capire come fare, è facile usarlo, è una buona interfaccia, un buon sistema di traduzione. Vabbè, comunque per il momento alla versione ultima rilasciata è già tutto tradotto da me, poi che sia ottimale o meno, tutta corretta o meno, la traduzione è un altro discorso, non sono un traduttore professionista però ho fatto del mio meglio, insomma, ecco, in italiano c'è, la qualità la giudicherete poi voi. Dunque, vi ho fatto vedere che è una stampante, vi ho spiegato questo, ho spiegato se volete contribuire alla traduzione, dove, come si fa e per installare, ecco, Bumaga, naturalmente ho detto che è un progetto giovane, quindi non è ancora presente nei ripositori ufficiali delle varie distribuzioni Linux e specificatamente per Ubuntu, però c'è il classico repository PPA, ovvero repository aggiuntivo a quelli ufficiali e che si trova a questo indirizzo e qui vi riporto i soliti tre comandi basilari, i tre comandi base che ormai, se seguite i video più recenti sul mio canale, ritroverete spesso questi tre comandi di base che servono rapidamente, aprendo un terminale, ad aggiungere i repository, ad aggiornare l'elenco dei repository nel sistema e ad installare il programma desiderato. Quindi, rapidamente, giusto per un piccolo ripasso, voi semplicemente dalla descrizione del video, il commento alla descrizione del video, potete fare copia e incolla di questi comandi, quindi il primo serve ad aggiungere il repository di Bumaga, copia e incolla in un terminale, enter, date la password, aspettate che finisce il comando, poi aggiornate il sistema in modo che riconosca il nuovo repository e infine copia e incolla dell'ultimo comando per installare Bumaga, appunto la nostra stampante virtuale. E questo poi è un attimo, è questione di un minutino o neanche, è fatta. Chiudete il vostro terminale, Bumaga installato e subito vi apparirà qua, tra le stampanti a vostra disposizione. Se la mettete predefinita come me, ovviamente da tutti i programmi nei quali scegliete la funzione di stampa, vi si presenterà Bumaga già preselezionato e tutto lì non è che la stampante predefinita vuol dire qualcosa di particolare. Se capita di usare una stampa diretta da LibreOffice o da qualsiasi altro programma che ha il pulsantino della stampante diretta senza chiedervi la scelta della stampante, ovviamente userà la stampante predefinita, questo sì. Ecco. Alla versione attuale, adesso vediamo un po' le caratteristiche di Bumaga, vediamolo un po' in pratica cosa vuol dire e cos'è questo Bumaga. Attualmente è arrivato appunto alla versione 0.4, vedete anche qui sul sito principale, l'annuncio versione 0.4.0 è rilasciata. Cosa permette di fare? Quindi prima di tutto stampiamo un qualcosa per fare aprire questa stampante virtuale, perché essendo virtuale ovviamente non è un apparecchio che deve essere connesso al vostro PC ma semplirà una finestra che rappresenta appunto questa stampante. Allora stampiamo, che so, la pagina della localizzazione qui dal browser direttamente. Non andiamo a prendere chissà che documento, ovviamente se da una stampante è uguale, è lavorata dal LibreOffice, dall'editor di testo G, edito dal browser è uguale. Usiamo la funzione di stampa, vedete che è predefinita Bumaga e facciamo, iniziamo a fare la stampa di questa pagina di Transifex, della traduzione. Voilà, si apre Bumaga, ecco adesso qua magari nascondiamo un attimino la scaletta, giusto per che non ci disturbi. Io l'ho già aperta, mi si apre già a schermo intero e vedete com'è organizzato Bumaga dunque. Nella parte più grossa della finestra ovviamente vi presenta la stampa che avete appena richiesto, in questo caso la pagina web di Transifex è composta, risulta di tre pagine, vedete qui in basso nella barra di stato, in basso a destra c'è foglio 1 di 3 e sono tre pagine, tre fogli A4, nel mio caso A4 perché so che ho un postato la stampante per stampare su formato A4, quindi vedete che con la rotellina del mouse posso scorrere le pagine a tre pagine che compongono la stampa, oppure qui ci sono in alto i pulsanti per scorrere con questi pulsanti facendo clic le pagine della stampa. Poi il menu semplicemente riporta stampa e chiudi, stampo oppure esci, esci praticamente vuol dire abbandona la stampa che state formattando, che state elaborando, abbandonala, verrà persa, stampa, manda alla stampante che voi avete indicato qua, vedete su quale stampante volete poi mandare questa stampa che avete gestito finora in Bumaga, potete scegliere fra l'elenco delle vostre stampanti su quale stampante mandarlo, la configurazione la vediamo fra un attimo, potete stampare e chiudere, ovvero inviare la stampante e chiudere Bumaga, quindi perdere il lavoro che avete fatto in Bumaga perché sapete che stampate una volta solo e non ne avete più bisogno, sennò appunto fate stampa e Bumaga resta aperto, quindi potete ulteriormente elaborare la vostra stampa magari per stampare in una modalità diversa, in un formato diverso una seconda volta. E poi c'è l'aiuto che non ha l'aiuto nel senso di manuale ma presenta solo a proposito di Bumaga, vedete che avete le informazioni, gli autori, il team di Bumaga eccetera eccetera, ringraziamenti ad altri progetti eccetera eccetera, e ecco l'ho aperto giusto per mostrarvi che c'è anche la scheda traduzione nella quale risultano i vari traduttori nelle varie lingue, al momento della compilazione della versione 04 erano complete queste lingue, quindi il russo ovviamente, essendo il capo progetto russo, come vi ho detto, l'italiano che sono io, vedete qua, lingua cieca, Pavel Frick e l'usbeco, credo sia usbeco latino, che è questo Umit Almasov, e voilà, vedete che Bumaga è questo. Adesso vediamo un po' in dettaglio cosa permette di fare Bumaga. Quindi l'abbiamo aperto e in questo momento abbiamo come dire in memoria di questa stampante queste tre pagine di questa stampa e Bumaga permette di accumulare diverse stampe, quindi abbiamo fatto una prima stampa, andiamo a farne un'altra, per esempio stampiamo la home page del sito di Bumaga, perché no? Andiamo ad accumulare una seconda stampa sempre su Bumaga, stampiamo la seconda e anche la terza, ho aperto qui per esempio la pagina wiki che spiega che cos'è il kernel Linux, che almeno va più su pagine, scusate va su più pagine e quindi è una stampa un po' più significativa e anche essa la accumuliamo su Bumaga. Allora, fin fine richiamiamo la nostra stampante, eccola qua, e nascondiamo la scaletta, teniamola qui ma rilassiamo giusto un attimino, vedete sono diventati 12 i fogli, 12 pagine, perché abbiamo accumulato 3 stampe, dove si vedono le 3 stampe? Qui a sinistra, sulla sinistra, vedete una stampa di 3 pagine, che era la prima, questa qui, praticamente la home page di Transifex, del sito di traduzione, 2 pagine la home page del sito di Bumaga e 7 pagine la stampa da Wikipedia. Questi sono i 3 job, si chiamano così in gergo, cioè i lavori di stampa, ecco, i 3 job sono accumulati in Bumaga, pronti per essere stampati uno dietro l'altro o per essere formattati prima di essere stampati. Formattati cosa vuol dire? Quindi accumulare diverse stampe, abbiamo visto che funziona. Riordinare i lavori di stampa, quindi se io non voglio che escano dalla stampante fisica, sui fogli di carta, in questo ordine le stampe, io posso selezionare uno o più job, quindi lavori di stampa e spostarlo o in su o sopra, quindi adesso o sotto, ecco, quindi adesso per esempio ho spostato la stampa che prima era in prima posizione, l'ho spostata in seconda posizione, in prima posizione è diventata la stampa del sito di Bumaga, in seconda posizione quella di traduzione è rimasto in ultimo la stampa da Wikipedia, magari mettiamo in mezzo la stampa da Wikipedia, ecco, lasciate perdere che... ecco, lasciate perdere che il mio launcher di Unity mi appare ogni volta che tocco un job per spostarlo, perché lo considera come un documento che può essere magari trascinato su un'icona del launcher, ma fa niente. Comunque vedete che adesso abbiamo dunque il sito di Bumaga per primo, la spiegazione del kernel per secondo e per ultimo il sito di traduzione Transifex, quindi possiamo riordinare i lavori di stampa come vogliamo prima di mandarli sulla stampante fisica vera, poi possiamo anche cancellare dei lavori di stampa, quindi se rinunciamo a qualcosa possiamo cancellarli. Possiamo, sì, cancellarli, magari facciamo così, ecco, giusto per fare una prova, diciamo, accumulo anche la stampa dell'home page di FinePrint, quindi aggiungiamo anche quella, e si è aggiunta in ultima, eccola qua, una paginetta sola per il FinePrint, l'ultima, però dico no, questa non mi interessa, io posso anche cancellare i lavori di stampa che ho accumulato prima di stampare, quindi cancellare. Ecco, avete visto che con il tasto destro esce un piccolo menu dal quale ho potuto scegliere di cancellare un lavoro di stampa, ma c'è anche l'opzione di rinominare, ecco, qui non l'ho messa subito sotto, ma qui, ma già che l'abbiamo vista, ne parliamo adesso, possiamo anche rinominare i lavori di stampa, quindi se sono parecchi e se tutti si chiamano senza titolo o con titoli strani, è un po' difficile per esempio riordinarli o posizionarsi sulla stampa che serve, perché senza vedere l'anteprima delle pagine non possiamo andare a colpo sicuro, fare clic e dire questa è la stampa da wiki, questo è l'home page di Bumaga, eccetera, eccetera. Quindi possiamo anche rinominare i vari lavori di stampa, job accumulati in Bumaga, facciamo il tasto destro, rinomina, quindi vediamo che questa è la home page di Bumaga e lo rinominiamo, così è molto più facile orientarsi fra i n lavori job accumulati, vanno essere anche molti di più che tre ovviamente, il secondo è il wiki, facciamo le cose come si deve, quindi diciamo wiki kernel, pagine kernel, e il terzo rinominare, quindi diciamo transifex traduzione Bumaga per esempio, vedete che potete introdurre dei titoli, potete qui anche col mouse prendete il bordo della fascia della barra di sinistra di Bumaga e potete anche ingrandire o rimpicciolire questa banda di opzioni dove ci sono tutte le opzioni per gestire le stampe. Ecco, rinominare l'abbiamo detto, torniamo su della nostra scaletta, vediamo che si possono anche stampare ovviamente più pagine per foglio, ecco questo lo vedete qui la disposizione della stampa, per normale, diciamo neutra, stampando uno a uno come vengono accumulati i vari lavori di stampa, è su un foglio, quindi una pagina, un foglio, però io posso fare anche due pagine su un foglio e vedete che i fogli sono sempre 12 pagine, qui in basso all'estrema destra vedete che comunque il totale di pagine di stampa sono sempre 12, però i fogli fisici che risulteranno usciti da una stampante vera sono 6 adesso, quindi abbiamo dimezzati perché abbiamo detto stampa due pagine per un singolo foglio e quindi ovviamente risulteranno metà fogli fisici, quindi vedete che si risparmia anche carta volendo, o addirittura su 4, 4 pagine su un singolo foglio, quindi diventano già solo 3 fogli per stampare 12 pagine, vedete se io li scorro qua, vedete che sono diventati solo 3 fogli fisici ma con tutte le mie 12 pagine, oppure estremo, non so quanto sia leggibile su un foglio a 4, comunque magari con la lente, su 8 addirittura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pagine diventano due fogli, le 12 pagine si riducono a due fogli fisici di carta, vedete in orizzontale, e voilà, e qui potete scegliere appunto la disposizione e si può impostare appunto, visto che Bumaga deriva il suo nome proprio dalla gestione degli opuscoli, dei booklet, ovviamente ci mancherebbe che manca la modalità opuscolo, quindi se si attiva la modalità opuscolo, verrà stampato un primo foglio che fa da copertina e poi due pagine per foglio per poter fare in modo che una volta uscito dalla stampante fisica vera, i fogli possono poi essere ripiegati a formare il libricino appunto, l'opuscolo, vedete che risulteranno 7 fogli per le nostre 12 pagine, se ne faccio scorrere, alla fine l'ultima pagina chiude l'opuscolo e la prima pagina apre l'opuscolo, insomma il formato opuscolo, famoso formato opuscolo, ecco, torniamo alla normalità, quindi una pagina, un foglio, quindi 12 fogli per 12 pagine, poi c'è la possibilità di attivare o meno la stampa fronte e retro, quindi se io stampo su due lati, vedete qua due lati, se io attivo sono sempre 12 pagine ma i fogli sono 6, ovviamente, vedete sempre qui, tenete un occhio qui in basso a destra, vedete senza modalità stampa fronte e retro, sono 12 pagine e 12 fogli, se io attivo di stampare sui due lati diventano 6 fogli fisici ma sempre 12 pagine ovviamente, quindi la stampante stamperà fronte e retro, ovvero due pagine, ognuno su una facciata del foglio, poi si può configurare qualcosa delle stampanti di arrivo, quindi in uscita da Bumaga che vada sulla stampante fisica, si può mettere qualche opzione, non molte per ora, comunque una delle opzioni già disponibili è che si stampino, si stampi sempre un bordo attorno al contenuto di ogni pagina, vedete che adesso la pagina è così, io scelgo la mia stampante, la configuro, schiaccio il pulsante configura e vedete che prima di tutto posso regolare i margini, i margini che Bumaga impone alla pagina, dal contenuto al contorno, attorno al contenuto ci sono questi margini, potete regolarli più o meno ampi, il duplex lo lasciamo per dopo, stampa in ordine inverso, è abbastanza intuitivo di cosa faccia, comunque è possibile dirgli stampa le pagine non dalla prima all'ultima come le vediamo in Bumaga, ma dall'ultima alla prima, va bene, oppure appunto disegnare un bordo, ecco questo è quello che volevo mostrare, disegnare un bordo, vedete qui nella piccola anteprima che mostra già i bordini, senza bordini, con bordini, se facciamo ok vedete che appare qui in anteprima il bordo ed è quello che verrà anche effettivamente stampato fisicamente sul foglio, se vi fa piacere avere le pagine incorniciate, probabilmente è più pratico quando iniziate a dire voglio stampare su due pagine, dove il confine delle pagine è più netto e più chiaro, con più pagine su un foglio, anche su quattro, su otto, vedete quei bordi, è molto più chiaro vedere i confini delle pagine che non senza bordi, se io tolgo i bordi, vedete che magari così non è così chiaro il confine fra una pagina e l'altra, ecco questa è l'altra possibilità, quindi ecco configurare le stampanti fronte e retro appunto sempre qui in configura è possibile dire e gestire in che modo, scusate il gioco di parole, gestire la stampa fronte e retro ovvero sui due lati di un foglio, se la vostra stampante è dotata di un duplexer che si chiama così, questa funzionalità, questo meccanismo proprio meccanica che gira il foglio e lo stampa dall'altra parte da sola, potete dire la stampante ha il duplexer, quindi farà tutto la stampante meccanicamente, quella fisica, naturalmente quella vera, oppure potete anche dire manuale con inversione o manuale senza inversione, nel senso che se stampate fronte e retro su una stampante che non ha il duplexer, ovvero il fronte e retro automatico, voi potete stampare una serie di pagine in una prima passata, prendete il mazzo di fogli, lo girate, quindi con inversione o senza, dipendenza di come reagisce la vostra stampante fisica, qui dovete fare delle prove e vedere come funziona, quindi girate il vostro mazzo di fogli, lo reintroducete nella vostra stampante e stampate il resto delle pagine che verranno stampate sull'altro lato del foglio, quindi un duplexer manuale. Ecco, nel mio caso, per esempio questo, ho messo la stampante a il duplexer perché la mia Brother DCP7065DN ha in effetti la funzione integrata di fronte e retro automatica. Poi è possibile nelle stampe inserire, prima o dopo una pagina esistente, inserire delle pagine bianche, ecco può servire per suddividere magari una parte di stampa da un'altra, ecco che non so, diciamo, c'è il primo job, il primo lavoro di stampa, poi arriva subito la descrizione wiki del kernel e diciamo che io voglio separare il primo lavoro di stampa dal secondo con una pagina bianca, cosa faccio? Mi posiziono sulla seconda stampa, per esempio, tasto destro qui nell'anteprima della stampa e scelgo, inserisce una pagina vuota prima di questa pagina. Ecco che a questo punto abbiamo le prime due pagine, il lavoro, il primo lavoro è di due pagine, una, due, poi c'è la pagina bianca che è diventata parte del secondo lavoro e quindi la stampa della descrizione del kernel dal wiki non è più sette pagine, va otto perché anche questa pagina bianca adesso è considerata come parte di questo secondo lavoro, poi si va avanti a vedere tutte le pagine e poi magari voglio separare anche la stampa da wiki dall'ultimo lavoro qui, allora io resto magari su questa, perché no? Ecco qui, questa volta non dico inserisce una pagina vuota prima ma dopo, sono sull'ultima pagina del secondo lavoro di stampa e dico inserisce una pagina vuota dopo, quindi il secondo lavoro di stampa è considerato come di nove pagine perché adesso c'è una pagina bianca prima che inizi l'ultimo lavoro di stampa di tre pagine qua. Quindi ho separato i pezzi, le parti di stampa che ho accumulato con una pagina bianca in mezzo che viene utile magari anche per paginazioni, ecco dalle due pagine in su può venire comodo poter inserire, spezzare la stampa con una pagina bianca magari per mettere, come dire, le varie pagine giuste sui fogli A4 in modo che non venga spezzata magari una stampa da un'altra o mescolate due stampe magari su uno stesso foglio A4 che sia un'ultima pagina della stampa prima e la prima pagina della stampa dopo può venire comodo inserire una pausa bianca in mezzo, ecco magari anche per delle note, ecco se è un opuscolo fa comodo magari avere degli spazi bianchi in mezzo alla stampa per poter annotare a mano una volta che è stampato, ecco perché no. Naturalmente tutto questo lo si può poi anche togliere, ecco a me non interessa più avere la mia pagina bianca, mi posiziono su una pagina bianca che ho inserito io e faccio elimina questa pagina e adesso non c'è più, quindi vedete ho tolto l'interruzione bianca in mezzo, quindi vedete, inserire pagine bianche e anche eliminarle naturalmente, così come in generale è possibile cancellare le pagine esistenti, ovvero se io mi posiziono sulla mia prima stampa e diciamo che mi interessa solo la prima pagina ma non la seconda, io mi posiziono sulla seconda pagina, tasto destro, elimina questa pagina, adesso il primo lavoro di stampa da due è diventato di una pagina, vedete, in effetti subito inizia la stampa dal wiki subito dopo la prima pagina non c'è più la seconda pagina, ho rinunciato alla seconda pagina. Posso anche annullare le cancellazioni, se mi pento di aver eliminato quella seconda pagina non è che devo ripartire dalla fonte della stampa e rifare, ricrearmi il lavoro di stampa, il job e poi rimetterlo come originale, ma posso ripristinare la seconda pagina, come? Mi posiziono sul mio lavoro di stampa dal quale ho cancellato le pagine, tasto destro qui nell'anteprima della stampa e vedete che si è attivata l'opzione annulla eliminazione e qui addirittura vedete che è così, come dire, raffinata questa funzionalità che presenta già tutti e tre i miei lavori di stampa che ho accumulato, di cui due sono oggregiati perché non presentano pagine eliminate, ma solo il primo presenta pagine eliminate, vedete, la pagina 2 del primo lavoro di stampa l'avevo cancellata, annullo la cancellazione e voilà che magicamente è tornato di due pagine il lavoro di stampa e io mi ritrovo anche la seconda pagina che avevo cancellato. C'è un'altra funzionalità e lo faccio magari nel secondo lavoro che è di otto pagine, c'è un'altra funzionalità che permette di cancellare da un certo punto fino alla fine, per qualsiasi motivo a me servono solo due pagine e da questa pagina in avanti, dalla terza pagina in avanti del secondo lavoro di stampa, io voglio cancellare da lì fino alla fine e quindi il rimuovere le pagine fino alla fine del lavoro di stampa, di quello presente sul quale state lavorando adesso nel secondo, quindi io dico rimuovi tutto fino alla fine e cosa succede? Il primo lavoro di stampa è intatto, il secondo da otto pagine si è ridotto a due, quindi una, due e il terzo è rimasto di tre pagine. Vedete che da otto pagine l'ho ridotto in un colpo solo a due perché ho detto cancella tutto da quella pagina fino alla fine di questo lavoro di stampa. Anche qui naturalmente io posso annullare quanto ho fatto se mi pento di averlo fatto e vedete che stavolta in eretto è diventato il secondo lavoro di stampa e qui ad una ad una, in blocco non lo si può fare, almeno per il momento non lo si può fare, ma ad una ad una posso recuperare tutte le pagine che ho perso cancellandole fino alla fine di questo lavoro, quindi pagina 3, diciamo che è sempre meglio che perdere una stampa che magari ci si è messe un po' a formattarla, se si fa un errore di manipolazione è sempre meglio recuperarle una a una che non poterle recuperare affatto, quindi con calma io posso annullare tutto quanto e ho ripristinato le mie pagine del wiki, ecco sono diventate 7 perché sono quelle originali, erano 8 perché avevo messo la pagina bianca alla fine di questo lavoro di stampa prima di che iniziasse il prossimo, ma anche quella è sparita non posso più recuperare che le pagine bianche le metto io a piacimento, posso anche rimetterla, pagina bianca dopo, così ridiventano 8 pagine, vedete c'è una pagina bianca in mezzo e eccola qua, questa qui è la pagina bianca che ho rimesso, prima di che inizi l'ultimo lavoro di stampa di 3 pagine, ecco questo è quanto in sostanza permette Bumaga a questa versione e vi assicuro che rispetto al non avere nulla nel nostro mondo linux, quanto permette Bumaga allo stato attuale, è già molto molto, ma molto ben fatto, è molto, è già completo, ripeto non ancora i livelli di fine print, ma ci siamo vicini in molti aspetti, ecco è veramente molto pratico quanto questo progetto ci mette a disposizione. e ci sono ancora un paio di aspetti da vedere perché non è finita qui, il primo aspetto è quello del duplex, quindi della stampa fronte-retro, ecco chi ha come me una stampante fronte-retro automatica, quindi che integra la funzionalità come questa, per poterlo gestire in modo comodo da Bumaga il mio consiglio, anzi più che un consiglio è un dovere di far così, ovvero si deve andare nella gestione delle stampe, in questo caso Broder appunto, e abilitare per difetto il duplex, ovvero dire alla stampante proprio nelle proprietà della stampante fisica, quindi quella vera, abilitare sempre il duplex, vedete io qua funzionalità duplex, l'ho attivata, non dico no, ma dico attivala, usala, sempre, quindi per difetto la mia stampante fisica userà il duplex, ovvero stamperà fronte-retro, questo perché? Perché in Bumaga poi funzionerà questa cosa semplicemente attivando o disattivando la stampa sui due lati, ovvero per dirla in altre parole, se questa stampa io adesso la facessi stampare effettivamente dalla mia Broder con il duplex attivato e con questo vistino mi stampa effettivamente fronte-retro, ovvero 7 fogli per 13 pagine, se io disattivo i due, la stampa sui due lati, mi stampa tranquillamente 13 foglie per 13 pagine, quindi questo perché ve lo dico? Perché l'ho provato, ho provato a lasciare disattivo il duplex nelle proprietà delle stampanti qua, e l'opzione i due lati non funziona in Bumaga, non so se è un difetto di questa versione o se è previsto, chissà, dietro le quinte cosa ci sta che funzioni così, quindi se non è attivo alla base il duplex, anche se dite stampami su due lati, non lo considera, almeno con la mia stampante Broder è così, e invece al contrario, quello che vi ho appena detto, se attivate sempre il duplex e poi lo gestite da qui, si lo voglio o no, non lo voglio, allora funziona, ecco, in sostanza è quello. L'ultima cosa è la possibilità di stampare non su carta il documento finale, ma su pdf, quindi ottenere un documento, se vogliamo, virtuale, non fisico su carta, è possibile già adesso installando un'altra stampante virtuale che si chiama CUPS PDF, ecco, di questa non necessitiamo di aggiungere archivi PPA né niente perché è già presente in Ubuntu Software Center, quindi se avete bisogno della stampante virtuale che vi crea, che ha lo scopo di creare documenti pdf, voi aprite Ubuntu Software Center, cercate questo pacchetto, questo software CUPS Righetta PDF, lo installate e vi troverete fra le stampanti un'altra stampante che si chiama pdf, eccola qua. Questa è un ulteriore stampante finta, diciamo così, virtuale, che si integra nel sistema e invece di far uscire su carta qualcosa fa uscire su pdf, crea un documento pdf, quindi se dal vostro Bumaga scegliete non una stampante fisica ma questa pdf, ecco che facendo stampa e chiudi oppure stampa io ottengo un documento pdf in una certa cartella predefinita che è, scusatemi, cartella pdf nella vostra home, questa qui la stampante crea la sua cartella di lavoro e questa predefinita sotto la vostra home, quindi nella vostra cartella crea una stampante, una cartella pdf nella quale fa finire i documenti pdf che lei tra virgolette stampa, ecco. Quindi diciamo che il cerchio si chiude nel risparmio assoluto di carta e volendo restare tutto nel mondo virtuale digitale, il cerchio si chiude installando anche quest'altra stampante virtuale che crea il file pdf e qui abbiamo chiuso il cerchio. Facciamo stampe chiudi, stampiamo su pdf, quindi è entrata in funzione questa stampante, vediamo un po' stampa pdf e vediamo che qui il lavoro di stampa, l'ultimo, il più recente è questo, sicuramente proviamo ad aprirlo, vediamo un po', eccolo qua, vedete che la stampante pdf aveva attivato l'opzione di mettere un bordo, una cornice alle varie pagine, in effetti la vedete qui, quindi è di 13 pagine, vedete qui che sono uno di 13 pagine, la seconda pagina del sito di Bumaga, poi c'era il lavoro di stampa dal wiki, varie 7 pagine o quello che erano poi, sì, 7 pagine, anzi forse 8 se ho messo la pagina bianca in mezzo, vediamo un po' se è vero, sì c'è la pagina bianca che interrompe una stampa dall'altra, e poi ci sono le ultime tre pagine del sito Transifex della traduzione di Bumaga stesso, ecco vedete che il pdf è creato esattamente come l'abbiamo visto in anteprima nella stampante Bumaga, ecco qua, quindi questo è quanto posso presentarvi e ho ritenuto opportuno e necessario fare una buona pubblicità a questo progetto, opportuno presentarvi per quanto riguarda Bumaga allo stato attuale. L'ultima nota è che comunque il capo progetto che gestisce lo sviluppo di Bumaga ha già preannunciato che la prossima versione 0.5 includerà direttamente in Bumaga, fra le altre nuove funzionalità, anche quella di stampare su pdf, quindi integrato direttamente in Bumaga, quindi al rilascio della prossima versione non sarà più indispensabile installare CUPS pdf, ecco diciamo che quello che finora volendo ottenere dei documenti pdf era indispensabile, ovvero installare quest'altra stampante virtuale, dalla prossima versione di Bumaga non sarà più una cosa obbligatoria perché in Bumaga stesso sarà previsto un tipo di esportazione, quindi una stampa virtuale su pdf direttamente in Bumaga. Ecco con questo concluso, spero che anche voi siate interessati e incuriositi da questo progetto che io trovo estremamente utile e molto promettente, provatelo, vedrete che sicuramente sono convinto che lo troverete utile anche voi. Per ora è tutto, vi attendo al prossimo video, ciao ciao!